Gian Lorenzo Brengini, bentornato nel campionato italiano, ti presenti con un 3-0 su Modena. Sì, è un primo set di una serie, quindi con calma, nel senso che la squadra io credo che abbia dimostrato attaccamento, capacità di sofferenza. Sappiamo che però queste cose non è che perché ci sono poi si mantengono, vanno chieste a se stessi ogni volta che si va sul campo. Per ora la squadra credo abbia dimostrato anche nella partita di Champions di saper soffrire, saper soffrire con insistenza mi viene da dire. Dobbiamo continuare a proporci in questo modo. Dovrò essere bravo io anche a non chiedergli troppo durante gli allenamenti per dargli le risorse, anche perché adesso abbiamo qualche giocatore in meno. E quindi chiaramente bisogna trascurare anche che normalmente in questa fase si è nella fase calda della stagione, ma qua si è partiti agli inizi di luglio. È come se si fosse a maggio in questo momento. E quindi anche questo bisogna tenerlo conto nel dosare la quantità di lavoro, nell'accettare certe... Il riposo in questo momento è una parte importante a condizione che il focus e l'atteggiamento rimanga questo e credo che la squadra abbia dimostrato assolutamente di volerlo fare. Però abbiamo fatto un passo. Lube molto concreta. Primo set con la battuta e una grandissima difesa anche in tutta la partita. Sì, sì, io credo che la squadra poi abbia dimostrato tanto anche in quel finale, il secondo set. Io l'ho detto prima nella partita, una squadra che arriva a questa partita con grandissima difficoltà, è inutile nasconderlo per tutto quello che sono stati gli ultimi giorni, dal Covid agli allenamenti che non abbiamo potuto fare, ad alcune anche piccole problematiche di quelli che c'erano. Però in queste partite non basta perché le squadre devono saper arrivare a una partita con difficoltà e poi devono anche saper trovare altre risorse perché tutte le partite ne presentano altre difficoltà e quindi lì si vede la capacità della squadra di soffrire. Credo che l'abbia fatto, l'abbia fatto nel secondo set, ha fatto alcune cose secondo me molto bene, al di là del discorso dell'atteggiamento, la battuta nel primo set è stata decisiva, ma anche, come dicevi giustamente tu, la difesa. Ma io credo che in certi momenti dove magari facevamo un po' fatica ad avere continuità sul cambio palla, tenere duro in ricezione è stata un'arma molto molto importante perché spesso quando non si riesce ad avere buon ritmo in attacco si tende a pensare all'attacco come problema. Il miglior modo di migliorare l'attacco è tenere un'alta qualità di ricezione e credo che la squadra abbia fatto bene. Abbiamo, secondo me, ancora da aggiungere qualcosa tecnicamente su tutte le situazioni in cui recuperiamo palla in difesa e non sempre riusciamo a creare delle occasioni comode per provare a chiudere i punti, lì possiamo fare dei passi in avanti. Grazie. Grazie.